Il pullman della carta universale dei diritti del lavoro della CGL ha fatto tappa a Catanzaro alla Policlinico Universitario di località Germaneto. Si tratta di un'iniziativa per promuovere, ha detto Giuseppe Valentino, il segretario provinciale della CGL, la promulgazione di una carta valida per tutti i lavoratori, non solo quelli con contratto. La scelta del pullman è stata fatta per dimostrare il senso del viaggio che la CGL sta facendo in Italia, con assemblee nei luoghi di lavoro per far conoscere, ha sottolineato ancora Valentino, la proposta di legge ed iniziativa popolare che verrà presentata in Parlamento. Sì, il mezzo e gli strumenti con la quale stiamo presentando la carta dei diritti, al di là del pullman perché rappresenta il viaggio che la carta sta facendo, sono le assemblee con i lavoratori, sono le assemblee nei luoghi di lavoro e nel territorio. Noi stiamo chiamando a raccolta i nostri iscritti per chiedere il consenso sulla nostra proposta di legge ed iniziativa popolare, che si chiama Carta dei diritti universali del lavoro, uno strumento, secondo noi, un bisogno dei lavoratori in questo momento che si trovano divisi, frammentati nella condizione di lavoratore da forme contrattuali differenti e da diritti che si scambiano come privilegi per chi ce li ha. Noi chiediamo come CGL invece che i diritti valgono universalmente, non tanto per il tuo contratto, per la forma di assunzione con la quale sta lavorando, ma in quanto lavoratore, in quanto essere umano, in quanto persona, che serve il proprio Paese, come dice l'articolo 1 della Costituzione, che è fondata sul lavoro e quindi è fondata sul sudore della fronte di ognuno dei lavoratori che onestamente fa il proprio dovere ogni giorno e a quei lavoratori questo Paese deve dare risposte. Siccome le risposte degli ultimi vent'anni sono state devi piegarti sempre di più, devi essere più produttivo, devi avere meno diritti, noi diciamo che ci vuole una grande Carta universale dei diritti del lavoro e quindi un nuovo Statuto dei lavoratori che possa universalmente garantire tutti.